Ormai questa Serenitana la definisco un rebus perché nonostante giochi, nonostante produca così da gol, ragazzi non segna neanche con le mani e voglio fare appunto un ragionamento riguardo appunto a Serenitana in reazione ad Inzaghi, ovviamente una Roma, la seconda Roma è di Daniele De Rossi che onestamente ha tanti 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 limiti ma non mi potevo aspettare diversamente, in primis perché i limiti della squadra sono strutturali, sono evidenti un po' a tutti, seconda cosa perché non ci potevamo aspettare che arriva De Rossi e la squadra totalmente cambia, la cosa positiva è che De Rossi ha messo delle sue idee quantomeno a livello di modulo, secondo me sta impostando la squadra con un modulo che ad ora, magari non tanto nelle riserve, però ad ora può essere futuribile per la Roma appunto il 4-3, anche perché magari i giocatori come Bove, come Pellegrini, come Cristante comunque sono da centrocampo a 3 invece che da centrocampo a 2 come faceva Murigno, però ripete poca roba, comunque a livello di occasioni, di tiri in porta ne hai creati veramente molto molto di meno rispetto alla Serenitana, però è stata più cinica perché comunque ha avuto anche un pochino la fortuna, anche nell'ingenuità di Maggiore, ad andare in vantaggio a sbloccare la partita grazie al rigore di Dybala, perché comunque Maggiore, per quanto magari in Ale, insomma ecco, dei movimenti possono essere anche istintivi, ma si è mosso veramente male, cioè quel braccio perché stava lì? Non lo so. Fatto sa che il rigore giustamente è stato assegnato e Dybala l'ha trasformato, però poi insomma la Roma ha veramente fatto poca roba, veramente ha creato poco. Per l'amor di Dio, l'azione del 2-0 bellissima, Braderich si è fatto un pochino in finocchiare da quel tacco di Dybala, però attribuisco questa cosa più che altro alla bravura di Dybala, che smarca Kasdorp e lì secondo me si vedono i limiti di Chaunà quando gioca a tutta fascia. L'abbiamo visto anche Terzino, ha già palesato dei limiti come Terzino e quando comunque gioca tutta fascia in fase di non possesso lui fa il quinto, ma i limiti difensivi sono palesi, perché Pellegrini c'è una secondo me se l'è un po' perso. Tu devi stare molto più attaccato al giocatore o quantomeno più attaccato a un'ipotetica linea di passaggio, invece Pellegrini aveva tutta la libertà di questo mondo. Una serenitana che secondo me anche fino al rigore non aveva, non aveva, non aveva meritato lo svantaggio, perché comunque anche nel primo tempo il Teori Braderich, Candreva, ecco Candreva è un ottimo giocatore, un grande giocatore, ma lui quest'anno va per 37 anni e non ci si può assolutamente affidare sempre e comunque a un 37enne, alle sue giocate. Qui la serenitana ha mancato, perché ha mancato nella programmazione, perché Candreva sarebbe stato molto utile e la serenitana avrebbe reso molto di più qualora Candreva fosse stato il quid in più a una squadra che già aveva qualità. Di contro, se tu ti fai, ti appoggi su un 37enne perennemente, contando che speri che gli esca la giocata, che poi ti risolve la partita, beh è un pochino sbagliata come cosa. Ripeto, una serenitana che comunque anche a livello di statistiche ha avuto comunque il possesso palla ovviamente a sfavore, perché 61 Roma contro 39 serenitana, ma ragazzi 15 tiri totali della serenitana, 5 della Roma. Importa, 7 della serenitana e 2 della Roma. In questa partita è vero che lui Patricio ha fatto un maggior numero di parati rispetto a quelle che ha fatto Cioha, però anche di rimporta non sono stati tutta questa pericolosità. Perché anche il tiro di Bradric, sì si è steso bene lui Patricio, ma non è che fosse il tiro più pericoloso della Serie A di questa giornata. Quindi la serenitana sicuramente adesso sta raccogliendo i frutti un po' marci di un mercato offensivamente deficitario, perché al netto di tutti, ok, al netto di infortuni, di squalifiche, però se tu adesso ti basi su un simi che fino a qualche mese fa era un elemento misterioso, fuori rosa e lo volevi cedere a tutti i costi, Beh, vuol dire che qualcosa a livello di programmazione è stato sbagliato, magari, al netto appunto degli scorsi di A, ma magari è stato anche un azzardo se ti vuoi salvare e puntare sui quei mesi e Trivante Stewart. Io sui quei mesi ho speso anche parole discrete, ma avevo detto che comunque è un attaccante che potrebbe dire la sua, ma sul lungo tempo. Perché comunque viene da un calcio diverso. Trivante Stewart, io onestamente non so neanche perché sia stato comprato. È una serenitana che ora sarà anche chiamata a risolvere dei problemi difensivi, perché sembra appunto che Lovato a ore dovrebbe firmare per il Torino, e quindi vai a perdere un giocatore che, al netto degli errori che comunque ha commesso anche lo stesso Lovato in questa stagione, probabilmente anche trascinato in questo turbinio di negatività della serenitana, tu adesso ti vieni a trovare con un elemento in meno in difesa. E non è che in difesa hai fenomeni. Ripeto, hai un Daniliuk, hai un Gjomber, di Uscenes Campi, hai un Braun che anche lui fino a qualche giornata fa era vicino alla cessione, era fuorosa ancora un po'. Hai un Fazio che non è più un fulmio di guerra. Quindi deve affrontare la serenità a determinate problematiche. Ed è chiamata a svoltare, assolutamente. E questa squadra è lo specchio appunto di Inzaghi. A raffona, sì che mette il cuore in modo disordinato. Io ho sempre detto, secondo me Inzaghi non è l'allenatore adatto per questo tipo di imprese. Ma mai nella vita. Perché tutte queste difficoltà che la serenitana sta incontrando, e tutti i frutti che adora, secondo me, non ha raccolto, in parte è anche colpa di Inzaghi. Perché ogni volta che trovava, sembrava aver trovato la quadra giusta, la partita dopo ti cambiava. Difesa 3, difesa 4. Poi rendi bene a 4, ma ritorni a 3. Poi fa bene a 3 e poi ritorni a 4. Inzaghi non ha saputo dare una quadra, una sicurezza alla squadra. Poi prima non vedevi Castanos, adesso è quello che ti sta risolvendo quando entra. In questa serenitana tu non puoi lasciare fuori uno come Castanos. Sei un folle. Sei un folle perché è l'unico che ti mette qualità. È l'unico. Con un maggiore anche lui che è stato fuori un pochino di tempo, che adesso sta cercando di trovare la forma, ma sembra aver perso un po' quello smalto che aveva lo Spezia. Ma sicuramente tutto l'ambiente a Salerno, che sta cominciando a diventare, a essere difficile, appunto il tutto declinato secondo dei parametri di classifica, di parametri negativi, di classifica deficitaria. Quando i risultati non vengono, anche, non lo so, il primo tiro sbagliato ti porta ad andare in down. È comunque una serenitana che, ragazzi, è più fragile del Riomare, del Tonno Riomare. Comunque parte bene, bell'approccio, però ragazzi si sfalda, la prima difficoltà si sfalda. Io non vedo una serenitana, tranne Candreva, leader in campo. Questo manca la serenitana, mancano leader in campo. E si sa come uno per reparto di leader deve averne. Tu hai Ochoa, ma tu non hai un leader difensivo, e non venite a me a dire che Ghiomber è un leader difensivo. Ha più esperienza, ok, Fazio ha più esperienza, ok. Ma Fazio ha i suoi grandi limiti. Ghiomber ha i suoi limiti, i suoi grandissimi limiti, Ghiomber. A centrocampo non hai mezzo leader, né tecnico, né livello caratteriale. In avanti ha Icaandreva. Il punto di riferimento doveva essere D.A., che però poi doveva andare via, poi rimasto gli scazzi con la dirigenza, e poi ha reso sì e no. Però, insomma, è la serenitana richiamata alla G, ragazzi, perché adesso la situazione comincia ad essere un po' più deficitaria, perché troppo troppo ha fino a un filotto dove fai pochi punti, ma quella davanti, insomma, magari ti comincia anche un pochino a scappare. È grave la situazione. Adesso sta andando bene perché abbiamo visto anche ieri tra il tredicesimo posto e il diciannovesimo posto sono tutti nel giro di 4-5 punti, forse anche di meno. Però, ragazzi, bisogna cambiare marcia a livello offensivo, perché se no qui va fuori poco. Certo, questo è il problema dell'inici di liquidità, quindi cedere per riacquistare. Si è parlato di Boateng, si è parlato di tanti altri giocatori che Sabatini voleva portare, ma anche Sabatini ha le mani legate se comunque ci sono dei paletti a livello di indici di liquidità e sul discorso bisogna cedere per poter acquistare. Dopo questa sconfitta, soprattutto vedendo come è arrivata, e vedendo i soliti errori che fa Serenitana, comincia ad essere un problemino. Per quanto riguarda Roma, ripeto, a Roma deve prendere questi mesi come, secondo me, come modo per porre le basi per il futuro. Non certo per, diciamo, cercare di arrivare il più in alto possibile, o meglio, quello sì è normale, però bisogna vedere sempre la posizione dei rossi, perché ad ora è ancora un tecnico che sarà a fine stagione. Adesso, secondo me, bisogna intanto lavorare per porre delle basi a medio termine, diciamo così, non a breve termine, a medio termine, lavorare in quel senso e vedere di raccogliere i migliori frutti e il maggior numero di frutti possibili adesso, ma sempre con un occhio in avanti. Perché adesso, ok, ma in queste due partite non si può non dire che la Roma sia andata bene. La Roma è andata bene oggi. Poi sento anche in Telecronaca la hype la Roma di Daniele De Rossi e Di Bala, grande classe. Ma ragazzi, i problemi sono rimasti. Ora, c'è fumo negli occhi perché ha vinto due partite, ma due partite, ragazzi, ha sofferto come un cane. Sia contro il Verona che ieri contro Sanitana. La Roma ha sofferto come un cane. Ha proposto poco. Perché comunque il gioco è quello, i limiti sono quelli. Però c'è il fatto dell'hype di De Rossi perché si sa che poi è normale anche che all'inizio, un po' come due persone si mettono insieme, no? I primi mesi sono sempre più belli. Poi magari cominciano ad esserci problemini. Possono uscire problemini. E la situazione è questa qui di De Rossi con la Roma. Piano, step by step, ma non bisogna scatenare un hype eccessivo che è secondo me anche molto mal riposto. Perché dopo che succede? Adesso magari un po' si illude, poi magari arrivano le prime crepe e poi si torna a dire Ema De Rossi, Capitan Futuro, rimesso lì perché è un giocatore da Roma, ma lui ha fallito alla SPAL. Quindi invito anche i tifosi da Roma, ma penso anche che molti tifosi da Roma, quelli magari meno di pancia, ma un po' più ragionatori. Siano anche d'accordo con me. Non bisogna farsi trascinare dalle emotività, dall'hype di queste due vittorie, perché sono due vittorie vedendo appunto come sono arrivate. Annetto che sei punti sono sempre meglio che due o niente, o quattro, ma bisogna sempre pensare che due punti sono venuti con due squadre comunque di bassa classifica e soprattutto soffrendo, soffrendo tantissimo e rischiando tantissimo. Perché basta un cross, un mischione, che tu il gollo prendi. Ripeto, 15 tiri contro 5 a fondo della Serenitana, 7 di rimporta della Serenitana contro 2 della Roma. Tu questa volta sei stata cinica, ma non sempre può capitare. Bisogna lavorare sui punti deboli per poter crescere. E ad ora la Roma ha avuto, tra virgolette, la fortuna di capitalizzare quello che gli è passato sotto mano. Ma arriverà un punto, perché arriverà, è fisiologico, sono i cicli all'interno della stagione, che tu magari hai un po' più difficoltà, una squadra un po' più organizzata, e tu paghi, e tu paghi poi. Perché ripeto, la Roma ha pareggiato, se non ha vinto contro il Verona, un Verona ha veramente in totale difficoltà e ha rischiato veramente di perderla di pareggiarla quantomeno con la partita. Quindi ripeto, non solo per incensare la Roma, anche perché incensare la Roma vorrebbe dire svalutare il lavoro di Mourinho, cioè dire la Roma di De Rossi, e secondo me c'è il messaggio di fondo, hai visto adesso che la Roma gioca prima e invece no? No, non giocava prima e non gioca adesso, solo che adesso ha avuto anche la fortuna di imbroccare delle partite, o meglio, che degli episodi non li sono andati contro, diciamo così, quindi magari un tiro di poco fuori, una parata di ripatrisio particolare quando prima non prendeva neanche questo mouse che magari mi veniva buttato così addosso e quindi insomma, ecco, fly down. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate, vi mando un bacione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!